Buongiorno ragazzi, disegniamo oggi un altro disegno elementare ed è la perpendicolare nell'estremo di un segmento. Quindi abbiamo disegnato la perpendicolare nel punto medio di un segmento, la perpendicolare da un punto esterno e adesso andiamo a disegnare la perpendicolare in un estremo. Cosa vuol dire la perpendicolare in un estremo? Vuol dire che se noi disegniamo il segmento AB, lo facciamo lungo 5 cm ma non è vincolante la lunghezza, disegnare una perpendicolare in un estremo vuol dire disegnare la perpendicolare o in A o in B. Immaginiamo di voler disegnare la perpendicolare nel punto A, ma potrebbe essere lo stesso identico discorso nel punto B. Come operiamo? Operiamo in questo modo. Prima di tutto dobbiamo prolungare il segmento AB dal lato lungo il quale vogliamo realizzare la perpendicolare. Come vedete ho utilizzato la stessa matita ma con un tratto molto più leggero per evidenziare il punto A, che sarà fondamentale, da quello che è invece il suo prolungamento. Fatto questa operazione dobbiamo prendere il compasso. Con apertura a piacere, attorno a un paio di centimetri potrebbe essere una buona soluzione, 2-3 cm, dobbiamo disegnare un archetto che tocca sia il prolungamento sia il segmento AB stesso. Tocca questo qui nel punto 1 e questo nel punto 2. Se mai dovesse capitarvi quello che è successo a me, la cosa importante è ripuntare il compasso esattamente nel punto precedente. Ora cosa dobbiamo fare? Abbiamo fatto la prima semicirconferenza, abbiamo trovato due punti di intersezione. Cosa facciamo? Aumentiamo, raddoppiamo circa, quindi più o meno doppia, la distanza che abbiamo, l'apertura che abbiamo utilizzato in precedenza. Fatto questa operazione, puntiamo in 1 e disegniamo un archetto, puntiamo in 2 e disegniamo un altro archetto. Questo punto 3 che otteniamo, se unito con A, ci fornisce la perpendicolare al segmento che abbiamo dato all'inizio. Quindi questa sarà la perpendicolare al segmento. Come ci facciamo a rendere conto che questa è una perpendicolare? Possiamo ad esempio provare con la nostra squadretta e assicurarci che queste due linee seguano i due profili della squadretta, come vedete in questo caso. Oppure potete utilizzare un goniometro puntando lo zero in A. Chiaramente stessa cosa potreste fare in B. Vi invito come al solito a provare e a farmi avere il risultato che avete ottenuto.